16 febbraio 1979, nasce a Urbino Valentino Rossi, gloria del motociclismo italiano. Otto volte campione mondiale, è l'unico ad avere vinto il titolo in quattro classi differenti, 125, 250, 500 e MotoGP. Conquista, anche grazie al suo carattere estroverso e guascone, milioni di fan in tutto il mondo. Nel 2007 il fisco italiano gli contesta un'evasione di 43 milioni di euro. La vicenda, che ha una grande eco sui mezzi di comunicazione, si conclude l'anno successivo con il patteggiamento della pena. Dopo un biennio con la Ducati, Rossi tornerà a correre per la Yamaha nel 2013. Grazie a tutti.